Promuovere il territorio attraverso nuovi percorsi enogastronomici e il progetto promosso dalle DMC abruzzesi che in occasione della 51esima edizione di Vin Italy in fase di svolgimento a Verona hanno presentato tre iniziative che nella prossima stagione estiva si animeranno in Abruzzo. Il vino e il mare DMC Adriatica, esperienze di gusto in Abruzzo DMC Terre Pescaresi e la valle del Cerasuolo d'Abruzzo DMC Terre d'Amore. L'enogastronomia abruzzese è un punto molto forte, siamo tra le migliori regioni italiane per la propria cucina, osserva il coordinatore delle DMC abruzzesi Claudio Ucci. Secondo i dati a disposizione abbiamo molti vacanzieri soprattutto stranieri che scelgono la nostra regione soprattutto perché affascinati dal vino e dalle eccellenze abruzzesi. A tal proposito le nostre DMC, conclude Ucci, stanno promuovendo pacchetti turistici collegati ai itinerari enogastronomici per attrarre turisti. Abbiamo risposte positive.